Chi è il più breve? Chi è il più bene? Chi è il più intelligento? E chi è il più bugianto? Donazioni e sorrisi insieme ancora una volta per regalare speranza alle persone bisognose di trasfusioni di sangue e plasma. Con questo obiettivo ieri si è svolto il secondo Donor Day dedicato al Carnival Avis, una giornata in cui di certo l'allegria l'ha fatta da padrona. L'iniziativa è stata organizzata dall'Avis al centro trasfusionale di Fano in collaborazione con l'ente carnevalesca, i protagonisti i donatori in maschera. Un Donor Day fantastico, bellissimo colorato perché grazie alla carnevalesca veramente abbiamo portato tanta gioia per quello che riguarda il mondo del dono e la donazione della sacca di sangue. Quindi, fanesi, voleteci bene, stiate vicini a questa bellissima associazione, ancora grazie perché nel 2018 avete fatto veramente tantissimo per la nostra associazione e per la nostra città, quindi forza Fano, forza fanesi, venite a donare, vi aspettiamo il trasfusionale e forza ragazzi, il futuro sicuramente nelle vostre mani. E allora avanti i pancassoni coi carri e tantissimo per la nostra città. E allora avanti i pancassoni coi carri e tantissimo per la nostra città. Grazie.